Sono 37 in tutto, il numero è rimasto invariato nelle ultime 24 ore, i nuovi contagiati dalla seconda ondata di Covid-19, 31 in quarantena domiciliare, 6 ricoverati nel reparto di malattie infettive, dei quali 2 abitanti della provincia, ovvero un abitante di Butera, un abitante di Gela, mentre invece 4 vengono da fuori provincia. I positivi in quarantena domiciliare ce ne sono 24 gelesi, soltanto 3 nisseni e poi uno di Butera, uno di Riesi e uno di Serra di Falco. In tutto dall'inizio della pandemia sono stati 134 i guariti e 239 i contagiati.